Ok, sembra che stia registrando, quindi perdiamo. Allora, benvenuti a tutti, grazie per essere venuti. Questo è il secondo incontro di questo corso che si svolge qui a Edu3D in OpenSIM. Edu3D sapete che ha un gruppo su Facebook e siamo semplicemente una community di entusiasti, quindi di persone che collaborano e che cercano di imparare insieme a sfruttare i mondi virtuali, e magari non solo, per migliorare le proprie conoscenze, competenze e anche e soprattutto per gli insegnanti. Tutto questo in amicizia, in tranquillità, serenità, senza stress, una cosa che diciamo sempre è appunto di non... cioè lo si fa... Facciamo tutto questo perché ci piace, perché è un po' anche un gioco e come tale poi eventualmente chi è insegnante lo ripropone ai propri allievi. Noi non siamo dei geni, dei mostri, io in particolare non è che sia una persona espertissima in assoluto di Blender, quindi quello che noi vi insegniamo sono dei trucchi, delle cose su cui lavoriamo assieme e in molti casi, molte delle cose che faccio io, alcune di voi le fanno anche meglio, quindi si impara tutti insieme. Quindi il concetto di Edu3D è che è una comunità di pratica che vuol dire che tutti concorrono ad aiutarsi vicendevolmente. Ok, allora, fatta questa piccola premessa, vedete che io ho fatto questa bottiglia qua, che è una bottiglia che è fatta con due materiali. Come si fa a sapere che sono due materiali? Se mi vedete da zoom, io adesso seleziono la bottiglia e facendo selezione facce qua, vedete che posso selezionare l'etichetta oppure posso selezionare il resto della bottiglia. Quindi questa è una bottiglia che adesso andremo a modellare. Prima di andarla a modellare volevo solo capire se per caso qualcuno di voi avesse già provato a modellare una bottiglia e avesse avuto dei problemi. Quindi una piccola domanda che faccio, qui potete rispondermi in chat su zoom, piuttosto o anche alzando le mani, se volete. Allora, stiamo parlando, stiamo parlando sia in chat che in zoom. Vedo molti mi stanno mettendo da zoom. Ok? Mi confermate. Allora, no, la bottiglia questa qui non è trasparente, ho visto che l'effetto... Ovunque sia, sto registrando, spero che venga il... Ok, con qualche problema d'etichetta. Ok, allora, stasera adesso vedremo come... Ecco, l'etichetta al contrario... Allora, l'etichetta al contrario, non so se ce la facciamo vedere stasera, perché noi vedremo sostanzialmente un metodo di texturizzazione fatta con due materiali su una bottiglia come questa. E come vedete questa qui non ha l'etichetta al contrario dall'altra parte e vedremo come farla in questo modo. Allora, la prima cosa era creare l'etichetta. Quindi l'oggetto di questo incontro sostanzialmente sarà quello di produrre un'etichetta e vi farò vedere un sito online che permette di creare etichette. Ce ne sono tantissimi. Se non volete usare il sito online, che vi faccio vedere, ce ne sono, a parte altre, potete farlo anche con Gimp, Gimp, come si vuole chiamare, Photoshop, insomma, tutti gli strumenti che permettono di mettere delle scritte su delle immagini. Quindi noi andremo, ad esempio adesso, su questo sito e vedete che c'è Pablo. Questo qui l'ho scelto perché è assolutamente, per quello che ne so, free, nel senso è libero e quindi senza problemi particolari di copyright. Quindi credo che sia addirittura in modalità CC0, quindi che siano liberamente utilizzabili. Il che è l'ideale per gli scopi educational. Quindi se in questo momento qui volessimo cercare su Pablo un'immagine particolare, per esempio, possiamo cercare, e poi ovviamente siamo, magari anche in italiano, uva. Dunque se facciamo uva, viene anche uva. Quindi se vogliamo fare un'etichetta per il, di una bottiglia, possiamo, per dire, scegliere un grappolo d'uva. Quindi facendo doppio clic qua, vedete che abbiamo l'immagine che ci viene ripresentata su questo schermo centrale. Allora, Pablo è abbastanza carino perché è abbastanza, molto semplice. In sintesi si sceglie l'immagine di sfondo che si vuole usare, si sceglie come si vuole l'etichetta. L'etichetta può essere fatta, ad esempio, così, alta, abbastanza alta, così è quasi quadrata, e così è molto rettangolare. Allora, l'etichetta che potete mettere su una bottiglia di vino potrebbe, ad esempio, essere tipo quadrata, e poi potete decidere se mettere il testo, come mettere un header, mettere un corpo e mettere una caption. Quindi qui potete mettere un testo a piacere. Il testo, per dire, edu3d, oggi cos'è? È il 27 settembre. Potete selezionare e cambiare dimensione del font, quindi cliccando due volte viene abbastanza grossino, e qui potete mettere altre cose. un esempio di bottiglia. E qui potete mettere la caption che volete. Ho scelto Pablo, dicevo, ho visto anche altri esempi, c'è Canva o altri, ma sono tutti tendenzialmente siti che offrono servizi a pagamento. Ad esempio, Canva c'è proprio un servizio che fa proprio etichette, quindi le fa molto meglio di queste, quindi se volete poi potete anche usarla, però sostanzialmente chiedono, ad esempio, l'etichetta del vino, se volete poi scaricarla, chiedono di iscrivervi, chiedono un dollaro, insomma una cosa del genere. Però per i fini nostri, che sono molto semplici, volendo si può usare anche Canva e poi fare un print screen dell'etichetta. Comunque, supponiamo di aver fatto un'etichetta che vogliamo fare. Magari facciamolo solo leggermente diverso. Facciamolo così, così viene un po' diversa da quella. Vedete che se voglio cambiare il disegno, basta che clicco sul disegno e mi viene un disegno diverso. Vabbè, qui ci sono gli effetti, filtri e ci sono anche la possibilità di usare dei font diversi. Quindi per esempio questo, piuttosto che fatto così, insomma, ci sono un sacco di possibilità e poi si può dire di averla in grassetto o in corsivo. Quindi potete fare così. Quando siete a posto con la vostra etichetta, fate semplicemente un share download e poi fate il download e il download quindi calcolato e qui abbiamo Pablo download Pablo, diciamo, etichetta 27 settembre PNG. Quindi questo e abbiamo finito l'etichetta e ci siamo prodotti un'etichetta .png. Fin qui è tutto chiaro? Credo che sia abbastanza semplice usare un programma come questo. Sì, sì, è quasi banale, diciamo. Andiamo invece in Blender qua e un po' se riusciamo a abilitare il displaying dei tasti. Quindi vediamo un po' tutto un po' così. Quindi adesso tutti i tasti che premo si dovrebbero vedere. E proviamo a modellare una bottiglia. Ora, il primo pezzo che modellerò lo farò senza un'immagine di riferimento per poter essere abbastanza veloci. Probabilmente voi userete un'immagine di riferimento come ho fatto a vedere nel video. Tra l'altro il mio video sulla bottiglia l'avete visto tutti? Quello che avevo pubblicato già un paio di mesi fa. il video sulla bottiglia che ho fatto è molto interessante perché vi spiega tra l'altro magari ve lo faccio vedere brevemente. Lo vedete su YouTube. Ok, sarebbe questo qua. Edu3D Blender Arc prendere l'architettura e vedete che sono parto da un'immagine e con questa immagine viene modellata effettivamente una bottiglia e oltre tutto qualcuno che credo che sia mi sembra Rossano adesso qui non c'è scritto il nome ma dovrebbe essere mi confermate chi è stato a fare questo ha fatto la trascrizione del video quindi chi si trova meglio chi si trova meglio a vedere anziché il video un un tutorial scritto oppure chi vuole anche vederlo contemporaneamente insomma quello che fa il video scritto in maniera scritta in maniera da fissare può seguire questa cosa. Come vedete si parte un'immagine si modella credo attraverso delle estrusioni lo vedremo anche stasera quindi si fa questa bottiglia dopodiché si riporta la texture sulla bottiglia e poi il video fa vedere anche proprio come si fa l'export su OpenSIM ci sono una serie di trucchi che vi consiglio di studiarvi bene perché tante volte queste cose me le chiedete e poi c'è anche qualche trucco per salvare il tutto su Sketchfab Sketchfab non so se la conoscete è appunto questo modo questa vetrina molto utile su cui si possono caricare degli oggetti 3D e questi possono essere poi linkati anche sul gruppo Facebook andiamo avanti invece su quello io adesso farò una cosa leggermente diversa dal video perché tanto il video l'ho già fatto quindi andiamo primissima cosa prendiamo questo cubo selezioniamo tasto destro e poi facciamo X e cancelliamo il cubo questo perché il nostro obiettivo è quello di creare una bottiglia una bottiglia come la creiamo? la creiamo partendo da un cerchio quindi aggiungiamo un oggetto quindi aggiungi quindi faremo aggiungi mesh cerchio oppure ancora si può fare shift A in alternativa shift A mesh e cerchio notate che il cerchio viene aggiunto in esattamente dove c'è questo cursore questo cursore vedete che questa cosa bianca è rossa che all'origine all'inizio è esattamente al centro degli assi cartesiani questa è la X rossa Y verde e Z blu quando è inserito un oggetto con AND qui compare sulla sinistra sempre la possibilità di modificarne le caratteristiche allora una delle cose che nel caso del cerchio si controlla quanti sono i punti da qui composto vertici e suggeriscono di molti tutorial suggeriscono di metterne non tantissimi quindi 32 è l'originale ne mettiamo 16 viene leggermente più squadrato ma tanto poi lo morbidiremo dopo poi un'altra dell'attività che spesso vi si chiede di fare è di generare le UVs genera UVs in questo caso per la bottiglia che facciamo adesso genera UVs non è essenziale perché tanto poi faremo estrusioni quindi le UV generate non sono utilissime ma nel caso del vaso il video del vaso che ha fatto Eva se non fate la generazione delle UVs all'inizio le UVs sarebbero spacchettamento da Wrapp che ho accennato la mappatura UV che serve per fare la texturizzazione un'altra cosa che per la bottiglia può essere interessante è riempire vedete che il cerchio è completamente vuoto e noi lo riempiamo adesso nulla invece che nulla gli mettiamo il riempimento a poligono ngon ok vedete che appare è proprio un cerchio piatto completo questo che adesso andremo a estrudere ora questo è il primissimo pezzo fin qua ci siamo tutti o avete qualche domanda mi sembra particolarmente complicato siamo ancora in modalità object mode beh allora andiamo avanti quindi partendo da questo andiamo a questo punto in modalità modifica il nostro obiettivo è quello di far salire rendere tridimensionale questo cerchio per ottenere una bottiglia come dicevo non useremo un'immagine per semplicità ma andiamo in un po' occhio insomma come ci ricordiamo che è fatta quindi facciamo modalità modifica modalità modifica si fa da qua oppure mentre si ha il cursore dentro questa parte dello schermo facciamo tab e vedete che si vedono tutti i punti i 16 punti da qui siamo partiti quindi a questo punto la cosa interessante è si costruisce la bottiglia per estrusioni successive cos'è un'estrusione? estrusione è un meccanismo che permette di alzare quindi qui abbiamo questa cosa tonda se noi premiamo E e poi muoviamo il mouse vedete che si alza automaticamente un cilindro cioè praticamente i punti che abbiamo selezionato vengono estrusi come se fosse una stampante 3D quindi cominciamo a fare il corpo della bottiglia e qui cerchiamo di vedere la bottiglia di fronte quindi per vedere la bottiglia di fronte aspettate di nuovo questo cosa facciamo? cambiamo la vista la vista di solito si cambia col tasterino numerico quindi si fa 1 nel tasterino numerico sapete tutti cos'è il tasterino numerico che è quel pezzo sulla destra dove ci sono tutti i numeri dove c'è il più o meno per diviso e se voi premete 1 su questo tasterino numerico quindi c'è il tasto destro 1 vedete che mi fa vedere prospettiva frontale se poi premo 5 me lo fa vedere in modo ortogonale quindi vedete che è tutto bello diritto allora spesso la progettazione su blender si fa in ortogonale perché così non si hanno le deformazioni prospettiche dopodiché qui cerco di mettere la bottiglia ecco premo shift tasto centrale del mouse mi muovo la bottiglia un po' in basso in modo da poterla vedere meglio e poi posso muovere la rotellina per ingrandirla ridurla la rotellina del mouse allora qui l'obiettivo è questo che voglio fare io praticamente è fare una bottiglia qua quindi siamo arrivati qua fino all'inizio dell'etichetta che vogliamo metterci e ci fermiamo lì poi facciamo E e allunghiamo fino all'altezza dell'etichetta poi clicco col tasto sinistro del mouse poi faccio ancora E per alzarmi e connotate che se faccio E e muovo il mouse lui si va esattamente in perpendicolare sopra quindi adesso siamo sopra quindi facciamo il sopra dell'etichetta clicco il mouse è finito faccio ancora E e vado su e comincio ad arrivare qua perché voglio fare tipo il collo S scala e cerco di chiudere perché faccio e poi faccio invio faccio S e ho mosso il mouse poi faccio E vado in su e S e chiudo ancora per dire e poi faccio E e vado su E e vado su ok e così abbiamo fatto sostanzialmente un adesso poi magari lo potete fare come spesso qui è venuta particolarmente magra la bottiglia però sostanzialmente vedete che abbiamo già completato una bottiglia se pensate che sia troppo magra beh prima di andare avanti vediamo un po' se questo giro di estrusioni vi piace tutto chiaro se riuscite sapete quindi tutto questo meccanismo di estrusioni ok è molto semplice credo tra l'altro vi aiuta se per caso vi sbagliate quando fate un'estrusione se cliccate no aspetta ctrl z ctrl z sapete che fa la fa ritorno indietro potete fare ctrl z e potete correggere tutto dicevo prima se questa bottiglia vi sembra troppo stitica potete andare in modalità oggetto e poi potete ampliarla lungo il piano praticamente rosso verde quindi x y allora per fare questa operazione scegliete l'altro asse che è lo z e potete semplicemente fare s z se io faccio s z vedete che mi evidenzia la z muovendo il mouse no aspetta s shift z scusate s shift z vedete che mi evidenzia gli altri due assi a questo punto se io muovo il mouse vedete che lui me la inciccisce un po' quindi posso se ho sbagliato l'ho fatto troppo magra posso renderla più ciccia oppure se è troppo ciccia posso fare s shift z e dimagrirla dimagrirla vuol dire semplicemente scalarla solo lungo i due assi chiaro questo questo giro della s shift z quindi sapete che s se avessi fatto s x avrei ampliato lungo l'asse x quindi sarebbe diventata non tonda ma ovale se avessi fatto s y sarebbe espanza solo sulla y se volevo espanderla sia sulla x che sulla y in realtà faccio s shift z che è l'altro asse e lui automaticamente me lo espande di là questa cosa qua a posto va bene allora intanto che siamo qua proviamo a vedere se riusciamo a rendere questa bottiglia un pochino più accettabile vedete che adesso è tutta molto come dire pixelata in un certo senso si vedono tutte le facce no? magari facciamo ancora un po' di geometria e poi la ammorbidiamo un po' non sento nessuna cosa continuate a sentirmi vero? mi sentite? andiamo avanti perché wow sì allora la cosa che possiamo fare è fare ancora il vedete se vediamo la bottiglia che abbiamo qua di fronte oltre ad avere l'etichetta qua c'è un altro elemento interessante che è questa specie di non so come si chiami questo bordo in alto che credo che sia un rafforzamento che serve per poter stappare e proviamo a modellare anche quello visto che ci siamo così vediamo un piccolo trucco che non era nel video che la rende leggermente più realistica allora per fare questo torniamo in modalità modifica per ottenere quell'effetto dobbiamo aggiungere degli anelli anelli si chiamano in inglese edge loop questi anelli li facciamo qui mentre siamo nei mod possiamo premere A per deselezionare tutto se ripremessimo A avremmo selezionato tutto ma noi vogliamo senza niente e poi per aggiungere anelli bisogna andare in prossimità di uno dei segmenti che vogliamo tagliare e mentre siamo lì facciamo CTRL R allora il CTRL R praticamente cosa fa? aggiunge un anello vedete che diventa un anello viola faccio click e poi muovo e per dire qui vogliamo ad esempio mettere l'inizio del di quel piccolo anello che esce poi vogliamo aggiungerne un altro portiamo questo che c'è già quindi adesso facciamo A poi facciamo ALT li metto qua proprio qui faccio ALT tasto destro vedete che mi seleziona quello e qui mettiamo la fine quindi mettiamo che vogliamo fare un anello che estende da qui a qui allora con soli due di questi non ce la facciamo qui dobbiamo aggiungere altri due anelli quindi vedete che facciamo tutto molto sempre con CTRL R sostanzialmente facciamo A per selezionare CTRL R mettiamo un anellino qua selezioniamo andiamo ancora qua e mettiamo un altro anellino quindi mettiamo praticamente facciamo in modo tale che nel punto in cui vogliamo creare il nostro il nostro non ricordo come si chiama abbiamo creato due doppi anelli quindi due doppi anelli di sopra e due doppi anelli di sotto a questo punto andiamo vicino selezioniamo da vicino vedete che sto muovendomi con il mouse seleziono gli anelli quindi praticamente facciamo A faccio Alt e clicco qua tra l'altro notate che è importante dove clicco perché se io cliccassi qua mi taglierebbe mi selezionerebbe in verticale se invece voglio selezionare questo anello mi metto proprio qui sull'anello che voglio sulla riga che voglio selezionare faccio Alt Shift tasto destro e come vedete mi ha selezionato tutto l'anello poi un po' come funziona in Second Life faccio Shift Alt e tasto destro qua e vedete che ho selezionato anche l'anello di sopra quindi ho selezionato tutta questa parte ora per ottenere quell'effetto che abbiamo visto prima basterebbe allargare verso l'esterno questo oggetto quindi faccio una scalatura sul piano XY quindi a questo punto ve lo faccio come quizino come fareste voi per estendere questo anellino in modo tale da allargarlo qualcuno mi risponde allargarlo proprio aumentare la circonferenza esattamente S Shift Z che è quello che abbiamo visto prima quindi noi facciamo S quindi scaliamo Shift Z vedete che compaiono le due assi e poi allarghiamo e vedete che compare praticamente quell'effetto lì che vogliamo ottenere quindi abbiamo ottenuto sostanzialmente questo effetto poi chi è più bravo o no insomma lo fa più o meno bene fin qui ci siete tutti allora su questa modellazione della bottiglia volta elementare facciamo A per deselezionare ci sono dei problemi qualcuno contro l'errore tutti questi comandini qua vi creano qualche disagio psichico ok allora a questo punto cominciamo a fare un pochino di magia nel senso che la bottiglia così vedete che non è molto presentabile anche se dal punto di vista low poly sarebbe perfetta quindi se uno volesse prendere questa bottiglia e metterla in un contesto low poly abbiamo 162 facce anzi addirittura probabilmente se avessimo voluto farla low poly veramente invece che 16 avremmo messo 8 nel circolo iniziale e sarebbe stata veramente low poly ma anche così insomma 176 vertici andrebbe bene allora la prima cosa da fare è quella di levigare questo oggetto noi in modalità oggetto proviamo nell'ombreggiatura che sta sotto strumenti se noi facciamo leviga vedete che abbiamo la levigatura c'è però un micro problema su questa levigatura che è dovuto al fatto che probabilmente vedete che lui leviga tutto ma ci sono certi pezzi che probabilmente non vanno levigati per esempio questo pezzo in alto in una bottiglia normale se ci fate caso è abbastanza come si dice angolato cioè non è levigato quindi adesso forse ve l'ho già anche fatto vedere in un video proviamo a vedere come dirgli che alcuni di questi oggetti non vanno non vanno levigati però lo facciamo magari ancora aggiungendo un modificatore quindi selezioniamo tutta questa bottiglia ancora e proviamo a mettergli anche questo modificatore quindi chiave inglese e aggiungiamo il modificatore sub surf subdivision surface ok vedete che qui in particolare la bottiglia intanto ha preso un po' di forma no? però vale quel concetto che dicevo prima cioè che ci sono queste superfici che non sono bellissime quindi prima di andare avanti andiamo a prendere le parti che devono rimanere belle definite quindi possono essere per esempio anche quindi facciamo alt tasto destro prendiamo innanzitutto la parte superiore questa e poi tutte shift alt questo 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 e poi alt shift questo ecco e poi diciamo che tutte queste superfici le facciamo abbastanza squadrate cioè non tondissime per farle squadrate abbiamo questo questo comando che si chiama piega che si ottiene con shift e in inglese crease crease quindi faccio shift e vedete che shift e me lo fa vedere poi allungo col mouse e vedete che allungando il mouse praticamente questo mi stringe come se stessi stringendo una specie di cappio attorno a questa cosa e mi permette di avere ben definite questi segmenti che rimangono quindi molto più definiti di prima questo crease crease o anche piega questa piega serve per poter dire che questi oggetti devono essere piegati è una cosa che si usa anche abbastanza spesso in blender soprattutto in congiunzione con il modificatore subdivision surface vi è chiaro cosa fa il piega tra l'altro se volendo possiamo fare una piega anche sul fondo nel senso vedete sul fondo questa bottiglia qua in fondo tende a essere ovale che non è molto naturale quindi anche qua probabilmente facciamo A vuol dire che manca una piega quindi cosa facciamo andiamo alt selezioniamo questo facciamo shift e anche qua vedete che se io tiro riesco a controllare quanto quanto viene sostanzialmente praticamente arrotondo qual è il livello di arrotondamento che voglio a questo quindi posso mettere un arrotondamento quanto voglio quindi al limite posso anche mettere shift e e mettere il massimo quindi che arrivi proprio piatto ok in questo modo sostanzialmente è arrotondato tutto tranne sostanzialmente le estremità analogamente questo si può fare per i pedoni per fare proprio delle pieghe nette all'interno di un oggetto fin qua vi è chiaro tutto il piega non mi sconvolge troppo ok va bene allora vado avanti non so se qualcuno di voi non sarà sfuggito non sarà sfuggito che quando si applica il modificatore subsurf spesso e volentieri compaiono in termini tecnici si chiamano artefatti artefacts che sono sostanzialmente artefacts e un difetto quindi vedete che qui c'è un difetto c'è un difetto qua abbastanza evidente e c'è anche un difetto qua abbastanza evidente siete in grado di vedere questo difetto questi due difetti ok allora come si fa a fare in modo tale di evitare questi due difetti allora la la cosa ideale è mettere degli altri anelli che vengono chiamati anelli di supporto gli anelli di supporto tra l'altro notate che voi siete fortunati che avete una persona che ve lo spiega cos'è un anello di supporto quando io ho cominciato a modellare vedevo in tutti i tutorial i maestri che dicevano ci va l'anello di supporto ma nessuno mi spiegava perché adesso forse avete capito l'anello di supporto serve per rendere per ridurre i difetti questi artifatti quindi cosa facciamo per togliere i difetti allora usiamo un trucchetto che mi ha insegnato Elisabetta che l'ha imparato su non so se Elisabetta è qui presente questa lezione non l'ho vista nell'elenco ma ho notato che è sostanzialmente poi l'applicazione degli anelli di supporto quindi come si fa si seleziona selezioniamo tutto e selezioniamo la faccia quindi tutto l'anello che circonda la faccia con i difetti come questo quindi facciamo Alt tasto destro e abbiamo selezionato questa cosa qua per aggiungere degli altri anelli in questo caso quando le facce sono fatte in questo in questo modo la via più semplice è quella di fare un inset un incassa anzi viene detto in italiano incassa proprio il tasto I quindi se io premo I vedete che compare un altro anello che può essere manipolato e fatto piccola piacere allora il concetto è del doppio incasso cioè se io faccio un primo anello e poi faccio un altro I faccio un altro anello dentro e poi vado in modalità oggetto vedete che sono miracolosamente scomparsi in realtà qualche difetto probabilmente ci sarà ancora però a occhio umano vedete che è scomparso tutte quelle imperfezioni o meno le più evidenti avete notato che è scomparso quindi questo è il metodo che io chiamo del doppio incasso che abbiamo imparato proprio poche settimane fa proprio a realizzare bene meccanismo simile anche qua sotto nel senso che noi andiamo in modifica ci accertiamo che nulla sia selezionato andiamo qua facciamo incassiamo una volta incassiamo un'altra volta così e otteniamo l'incasso otteniamo anche qua l'eliminazione vedete che adesso anche il fondo è diventato non dico perfetto ma più che accettabile mi piace? ecco tra l'altro se andiamo in modifica potremmo anche alzare leggermente il fondo qua perché non so se avete notato che le bottiglie di vino hanno il fondo che non è perfettamente dritto ma che è leggermente sollevato quindi volendo si può realizzare ma anche le bottiglie di vino hanno il fondo cioè questo fondo un po' sollevato anzi a volte proprio c'è proprio una bella cosa comunque così abbiamo sostanzialmente modellato sia il fondo che la parte di sopra della nostra bottiglia quindi fin qui è finito e abbiamo sostanzialmente una bottiglia che secondo me è accettabile adesso abbiamo aumentato un po' i vertici perché siamo passati abbiamo aggiunto al subsurf avevamo poche centinaia di vertici adesso ne abbiamo mille ma tenete conto che mille vertici sono super giù nel conteggio di second life o di open sim sono equivalenti a un prime quindi sono circa mille e ventiquattro vertici diciamo mille vertici hanno più o meno il peso di un uguale un prime quindi una bottiglia così a un prime direi che va bene mi piace? ok allora a questo punto andiamo a fare la texturizzazione però prima di cominciare ad andare sulla texturizzazione mi fermo un attimo se avete delle domande anzi fatemi una domanda nessuno non posso qua su craft ok ah sì perché serve per evitare appunto l'accumularsi del fondo ok allora fin qui forse è la parte facile adesso andiamo un po' alla parte un pochino più complicata che è la texturizzazione allora texturizzazione faremo una texturizzazione diciamo non da foto vera ma partendo da quella foto che abbiamo preso prima quindi quando si parla di texturizzazione occorre sempre avere è meglio avere una andiamo qua su questo triangolino lo spendiamo sulla sinistra tendo a cliccato e poi selezioniamo la modalità editor uvi immagine e qui mettiamo l'immagine con la nostra con la nostra etichetta che ci eravamo fatti che era quella di Pablo che avevamo scaricato quindi la cerco sempre così perché Pablo etichetta 27 settembre ok everything questo è un programmino gratuito che se non avete interessante perché vi fa da Google nel vostro computer quindi io prendo grazie a everything vi posso ottenere il nome esatto copy full name c'è quindi tutto l'indirizzo di questa etichetta vado qua vado qua vado apri e ci apriamo gli metto qui ctrl v e gli metto sostanzialmente 27 settembre ok non so se la prende già così apri immagine ok e quindi abbiamo la nostra etichetta quindi tutto il nostro obiettivo adesso consiste nel andare a creare dei materiali su questa bottiglia in modo tale dunque il modify non l'abbiamo applicato sì ah prima di andare avanti facciamo beh però non è sì applichiamo il modify così vediamo tutte le facce che in effetti è meglio quindi vediamo un po' di pulizia che possiamo fare prima di andare avanti e come suggeriva Eva andiamo in modalità oggetto facciamo l'applica del modify ok e visto che ci siamo facciamo anche altre piccole pulizie e le pulizie che facciamo sono quelle del delle normali allora qui in realtà i normali dovrebbero essere già posti però come molti di voi hanno anche capito spesso le normali sono sbagliate e se sono sbagliate succedono delle cose brutte quindi conviene che quando quando avete un oggetto in una forma abbastanza stabile andiate in modalità modifica perché le normali si applicano in modalità modifica e si selezionano tutti i vertici e poi qui su ombreggiatura UV come vedete adesso si abbiamo la possibilità normali ricalcola ecco ricalcolando ricalcolare i normali soprattutto oggetti di questo tipo è sempre una buona cosa così come una cosa sostanzialmente importante che l'altra volta ad esempio nella lezione di un discorso non aveva applicato era l'applicazione di rotation in scale in realtà non è detto che sia necessario però bisogna vedere se la rotazione la rotazione in teoria in circostanze normali sane deve essere 0 e la scala deve essere 1 vedete qui non è 1 e in questo caso già vale la pena di fare oggetto applica ctrl A e poi fare rotazione in scala facendo applica rotazione in scala vedete che la scala va a 1 e la rotazione va a 0 se non si fa applica rotazione scala e rotazione soprattutto quando si importa su OpenSIM o su Second Life possono uscire degli errori molto difficili da capire e quindi questa pulizia la facciamo senz'altro ok torniamo noi eravamo arrivati abbiamo Pablo etichetta e cominciamo a cercare di capire dove vogliamo mettere questa etichetta quindi vedete che c'ha questo questa bottiglia in questo momento ha ha selezionato insomma c'ha già una UV map che era quella che aveva messo all'inizio ma non è quella che ci interessa noi l'etichetta la vogliamo mettere per dire qui ad esempio vogliamo mettere qua quindi andiamo in modalità seleziona facce e magari usiamo lo facciamo A per selezionare tutto poi usiamo il facciamo uno per vedere di fronte così lo facciamo proprio quindi ho premuto uno nel testo di un numerico cinque ortogonali eravamo già e poi cominciamo a selezionare tutto ciò dove vogliamo che sia incollata la nostra etichetta e per selezionarla in questo momento uno di metodi può essere quello di usare il pennello di selezione che si fa con la C se io premo C vedete che mi compare una sorta di pennello che mi permette di selezionare dove voglio che sia messa l'etichetta per esempio la voglio mettere lì fino lì qui se premo CTRL toglie la selezione per selezionare ho premuto il tasto centrale del mouse quindi se qui ah sì shift tasto sinistro ah no era shift tasto sinistro del mouse tasto sinistro del mouse seleziona shift tasto sinistro del mouse seleziona e poi invio quando ho finito quindi vedete che qui ho selezionato una parte della bottiglia su cui voglio incollare l'etichetta quindi noi l'etichetta la vogliamo incollare solo lì sopra ok allora per farlo per fare questa questa cosa noi possiamo fare semplicemente U e poi fare sviluppo a scucci e vedete che abbiamo ottenuto una una rappresentazione quindi abbiamo fatto abbiamo spacchettato questa parte della nostra del nostro oggetto ed è diventata proprio una griglia esattamente rettangolare quasi quadrata ok quindi questa griglia quadrata è quella su cui noi vogliamo associare proprio la nostra etichetta quindi noi vogliamo che proprio questa etichetta compaia lì sopra quindi il metodo più semplice è semplicemente quello di appoggiare la nostra griglia sulla nostra texture questo insieme di punti quadrati che avete sulla destra viene chiamata UV map tra l'altro UV map deriva proprio dal fatto che questa è una mappa bidimensionale che c'è una dimensione U l'unwrap io ho solo selezionato qui e ho semplicemente premuto anzi posso anche cliccarlo qua su UV sviluppo scucitura e poi ho cliccato su sviluppo scucitura così lui genera nel momento in cui l'ho fatto lui genera questo pezzo sulla destra l'unwrap l'unwrap come vedete non è ancora perfetto questo unwrap però potrebbe anche andare potremmo anche tenere cioè perdiamo un pezzo della text magari adesso per semplicità possiamo tenere questo unwrap e a questo punto quello che vogliamo fare è prendere un materiale e questo materiale che sarebbe la faccia come vedremo in open sim andremo a dirgli che questa faccia è proprio associata a questo materiale per vederlo effettivamente cioè per fare l'associazione di un'immagine con la sua unwrap purtroppo la procedura non è delle più banali nel senso che bisogna andare e selezionare qui dove parliamo i materiali quindi materiali vedete che questa bottiglia in questo momento non ha nessun materiale e noi dobbiamo generarci almeno un materiale che è il materiale per l'etichetta il materiale sarebbe un pezzo omogeneo del vostro del vostro oggetto per esempio in caso della bottiglia noi abbiamo separato questa sera la separeremo in due materiali cioè un materiale che conterrà l'etichetta e un materiale che conterrà il resto della bottiglia in realtà probabilmente sarebbe forse meglio poi mettere qualche altro materiale in più per il tappo insomma o per altre cose ma adesso per semplicità stiamo su due materiali anzi già due secondo me potrebbero essere già tanti troppo allora come facciamo a creare questo materiale facciamo a volte se fate le vostre costruzioni avete già un materiale qua ma in ogni caso potete crearlo nuovo quindi fate nuovo materiale viene generato il scusate viene generato quindi questo materiale togno solo questo pezzettino allora se faccio doppio click sul materiale posso cambiare il nome posso chiamarlo etichetta e a questo punto questo materiale che è l'etichetta posso agganciarci l'immagine quindi vado su questo altro tasto dove c'è l'immagine qui l'immagine non c'è là creiamo una nuova immagine questo è proprio solo lo slot non è ancora l'immagine quindi devo fare ancora un giro in cui devo dirgli l'immagine che voglio che Pablo etichetta questa e poi mi accerto qua in fondo che ci sia coordinata UV e la mappa che sia in questo caso la mappa UV selezionata quindi sostanzialmente ho creato un'etichetta e poi c'è un materiale che ho chiamato etichetta e poi questo materiale gli ho associato l'immagine dicendogli di usare la UV map mi sembra che qualcuno abbia alzato la mano volevo non domandarmi qualcosa scrivete in chat o era un errore un errore forse o forse qualcuno l'ha abbassata allora una volta fatto questo mestiere per capire se avete effettivamente fatto le cose correttamente la cosa più veloce da fare è di andare qui vicino alla modalità modifica e di andare in renderizzato e vedere se effettivamente mi compare l'etichetta adesso qui purtroppo manca la luce quindi si vede un po' male ma soprattutto in sostanza abbiamo dato la stessa texture a tutta la bottiglia quindi si vedrà male però adesso giusto per vederla meglio quindi adesso vedete che è tutta buia vi insegno un piccolo trucchetto vi insegno un piccolo trucchetto per vedere come come si vede insomma questa cosa si può vedere chiaramente questa cosa nel senso che di solito vado qua e gli amerito l'occlusione ambientale e vedete l'occlusione ambientale mi fa vedere come l'immagine viene mappata e come vedete la parte su cui ho fatto un unwrap è buona perché mi è venuta il resto dell'immagine invece ha un unwrap fasullo e quindi è venuto tutto molto postmoderno adesso vedremo come associare un altro materiale invece al resto della bottiglia questo pezzetto in tutto questo giro è effettivamente un pochino complesso magari dovreste se non l'avete mai fatto lo dovete studiarvelo un po' però è la base praticamente prima si fa un unwrap di un pezzo del vostro oggetto di questo unwrap lo associate poi all'immagine al materiale e poi di conseguenza l'immagine allora andiamo sempre in modalità solido qua e qui dobbiamo sostanzialmente creare un secondo materiale con il con un colore diverso che indichi sostanzialmente la bottiglia ah il motivo per cui si fanno anche due materiali distinti è anche perché poi su OpenSIM probabilmente si vuole fare in modo tale che uno il materiale della bottiglia sia effettivamente trasparente o riflettente mentre invece il materiale con cui è fatta l'etichetta probabilmente non sarà lucido quindi avrà proprio caratteristiche diverse quindi conviene fare in questo caso nella bottiglia due materiali diversi che hanno caratteristiche molto diverse fra di loro quindi cosa faccio vado sui materiali associati dove avevamo l'etichetta e poi qui aggiungo uno slot qui ci crea un secondo materiale che sarà la bottiglia vera e propria bottiglia vetro la bottiglia vetro probabilmente la vorremmo fare di un colore verde abbastanza scuro oppure se è una bottiglia divina possiamo farla sul rosso così abbastanza scura no? in realtà è meglio quindi questo materiale che sarà bottiglia vetro qui adesso viene molto di questo colore qua e bisogna fare in modo tale che il resto tutte le altre facce siano associate a questo materiale allora in questo caso la cosa via più semplice è quella di invertire la selezione quindi adesso abbiamo selezionato tutta l'etichetta possiamo dire che tutto quello che non è l'etichetta quindi facciamo seleziona facciamo inverso contro lì quindi se faccio inverso vedete che mi seleziona tutto tranne l'etichetta e tutto tranne l'etichetta questo qui che abbiamo selezionato possiamo o accettare questo unwrap che mi ha fatto vedere che era quello originato inizialmente oppure spesso in realtà si fa un unwrap di tipo per esempio proiezione UV intelligente questo e poi si fa ok vedete che l'unwrap intelligente genera un un impacchettamento uno spacchettamento della bottiglia che ricorda poi la forma della bottiglia e questi sono spacchetti unwrap già un po' più umani che non unwrap che abbiamo visto prima ok allora a parte l'unwrap che abbiamo fatto dobbiamo dire che tutti questi vertici in questo caso li assegniamo a questo materiale bottiglia di vetro vedete che è cambiato qualcosa quindi se noi dunque l'ultimo passaggio che è quello dell'unwrap sì io ero partito allora facciamo così adesso selezioniamo tutti i vertici ero partito dall'etichetta e adesso selezioniamo tutto quello che fa parte dell'etichetta poi una volta che sono qua ho fatto contro lì quindi ho invertito e poi da qua ho detto qui vedete che sulla destra prima c'era solo la crona che era il primo unwrap che era stato fatto solo sulla base invece per ottenere questo unwrap bellino io premo U oppure lo faccio anche qua sviluppo scucitura da qua e da questo sviluppo scucitura scegliete intelligente intelligente è proprio un sistema suo che lui cerca di tagliare ci sono per fare un unwrap ci sono un milione di modi diversi quindi non è detto che questo sia il migliore in assoluto anche sì si può dare il materiale iniziale prima dell'etichetta e poi separare solo l'etichetta sì 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 certo diciamo che io nella mia dislessia mi confondo spesso però probabilmente quella è la strada più veloce sì viene lo stesso anzi probabilmente è più rapido perché all'inizio c'è tutto selezionato compreso l'etichetta e poi stacchi solo l'etichetta ok comunque quello che volevo dire è che voi potreste in realtà fare qualunque tipo di amvrappa però dal punto di vista qualitativo se qualcuno vi guarda questo oggetto e vede un amvrappa fatto così capisce che avete fatto un amvrappa bellino no se invece è tutto pasticciato o cose del genere si si vede un po' male non rende un po' male ok e poi ho detto tutti questi punti li ho associati alla bottiglia di vetro con un segno questo l'abbiamo già visto quindi quello che succede sostanzialmente è che se noi torniamo in modalità renderizzata vedete che la bottiglia a questo punto compare più o meno nei termini in cui mi aspetto quindi questa è una renderizzazione diciamo che può essere già accettabile diciamo che in realtà molti tutorial la textualizzazione della bottiglia la fanno con un solo materiale nel senso che fanno in modo tale che tutto il resto della bottiglia vada a finire sull'immagine del un colore che sia già presente qua insomma ci cercano di fare in modo tale che ci sia un colore però ho scoperto appunto l'altro giorno che il che così si è molto molto più raffinati nel riuscire a esprimere le proprietà della bottiglia ma adesso per fare il botte che sembra il vetro la puoi fare trasparente nel senso che qui ad esempio se proprio vuoi vederla solo che attenzione le trasparenze eccetera che dovresti abilitare la trasparenza però di questo materiale qua puoi dirgli che la trasparenza metta praticamente un livello qui non si vede molto ma eh sì qualcosina si vede vedete che se dietro ci fosse della roba la vedresti trasparente ma la trasparenza in realtà è un po' a doppio taglio nel senso che conviene forse farla direttamente in OpenSIM questo ed è il motivo anche per cui se noi lo facciamo in due materiali poi in OpenSIM tu potrai dire che è trasparente solo questo altrimenti se lo avessi fatto un solo materiale quando lo fai poi trasparente diventa trasparente anche l'etichetta che non va bene allora proviamo a esportare e vediamo se ce la manda bene se riusciamo a esportarla questa è in OpenSIM quindi prendiamo questo oggetto quindi senza trasparenza lo selezioniamo in modalità solida sul texto no il texto non ce la fa materiale in realtà non è che si veda molto qua andiamo quindi in solida semplicemente vedete che qui sembra bianca ma in realtà è stata textualizzata la selezioniamo accertiamoci di averla selezionata e poi facciamo file export e facciamo collada e poi qui gli mettiamo preimpostazione operatore sim sl second life più open sim static attenzione è una cosa fondamentale se avete più di un materiale ho scoperto a mi spese ieri l'avevo già imparato ma me l'ero dimenticato che occorre cambiare un pezzo qua altrimenti vi appare bianca e cioè bisogna di esportare qui dove si è scritto v-texture di esportare i materiali se non fate questa operazione se avete un materiale solo ce la fa ma se avete più di un materiale non riesce a fare l'export non so se se ci avete fatto caso avete provato a fare l'export di di un di un oggetto con più di un materiale quindi a seguito del modo che vi sto spiegando adesso e no ma proprio ho visto proprio che se non si fa materiale non esce bene la cosa adesso magari poi mi riuscirà male anche adesso ma cosa facciamo facciamo file a questo punto esporta allora esporta ce l'avevamo già quindi andiamo qua su user package facciamo bottiglia bottiglia la chiamiamo 27 settembre punto dai ecco una cosa sotto se volete che i materiali vengano sono automaticamente importati dovete mettere le immagini cioè più che mettere le immagini dovete mettere le immagini esattamente nello stesso posto in cui mettete il DAE quindi se noi adesso siamo sotto documents quindi sotto documenti documents adesso qui facciamo esporta con l'ADA poi dobbiamo andare a cercare il nostro etichetta questo che è sotto downloads facciamo copia quindi copiamo questo file e poi lo andiamo a mettere come fratello bottiglia 27 settembre punto dai qui apriamo la cartella in cui abbiamo salvato questa cosa e qui facciamo un ctrl v c'era già da nell'osso documento e dottore di 27 settembre speriamo che ce la prende se ce la prende così bene se non ce la prende poi al limite la tiriamo su in qualche modo quindi la copiamo per importare andiamo qui in open sim dove siamo e facciamo adesso qui in inglese voi ce l'avrete forse in italiano quindi costruisci carica modello e poi andate vedete che c'è bottiglia 27 settembre punto dai facciamo apri ok per vedere se ha preso le texture basta cliccare sul texture qua e vedere se ha preso le texture in questo caso non le ha prese maledetto quindi dobbiamo poi importargliela separatamente io vorrei sbagliato qualcosina ah no l'ha preso mai dire mai ok quindi la procedura è corretta ci ha impiegato un po' quindi vedete che ha preso il colore più o meno che era marroncino scuro spero ha preso l'etichetta quindi ce l'abbiamo attenzione a non fare l'errore che ho fatto io 57 volte e cioè di pensare che così stia caricando le texture non lo fa l'accaricamento bisogna andare sotto upload options e dirgli include textures però questo lo fate soltanto se quando cliccate su texture vedete che ve le fa vedere altrimenti è inutile inoltre vi consiglio di cambiare il nome quindi il modello sarà bottiglia 27 settembre e in più l'altra cosa che suggerisco sempre è di modificare almeno il medium il load questo e metterci use load above questo in questo modo si vede anche da una distanza diciamo anche da 5-6 metri 10 metri dentro second life se non fate questo la bottiglia degrada abbastanza rapidamente in pratica per sapere come degrada potete cliccare qua e vedere questa come si vede medium questa come si vede low vedete che quando sono a distanza di 15 metri la bottiglia già degenera e se la vedo da molto lontano la bottiglia diventa così in questo caso degenera ma non tantissimo in altri casi la degenerazione è abbastanza importante dopodiché fate semplicemente calcola pesi e spese e tariffe non so come in italiano quindi fate upload e a questo punto se prendete la bottiglia e la mettiamo qua vedete che questa bottiglia è diventata anche più grande dell'altra che ho fatto quindi ce l'abbiamo anche qui in open sim adesso qui bisogna avere molta pazienza perché ci impiega un sacco di tempo a caricarla a texto soprattutto però prima o poi arriverà ecco è arrivato lo vedete anche voi forse nel vostro open sim ecco poi vedete la differenza rispetto all'altra bottiglia che ho fatto in preparazione è che questa bottiglia qua non è né trasparente né diciamo riflettente quindi andiamo a intervenire qui in open sim quindi cosa facciamo andiamo in edit di questa bottiglia andiamo in select face face ci permette di selezionare i due materiali da qui composta quindi possiamo andare sull'etichetta e per dire qui andiamo in texture e mettiamo full bright mettendo full bright vedete che l'etichetta si vede un pochino più degnamente poi selezioniamo select face andiamo sul resto della bottiglia andiamo sul specular shininess e qui possiamo dirgli quanto riflettente è questa bottiglia se le mettiamo alto dunque qui c'è anche il colore perché vede che è un colore molto scuro possiamo mettergli un colore diciamo un pochino più qui ho preso l'altra cosa un po' magari lo rifaccio poi dopo perché sembra che mi ha preso una una texture sbagliata dunque il le texture in second life al massimo possono essere 1024 per 1024 quindi se anche mettete una texture 2048 abbiamo già visto che viene in realtà ristretta a 1024 se invece andate su iFidelity le texture vengono prese un po' di più ah una cosa che adesso qui ho fatto una cosa leggermente diversa infatti sembra di vedere che non abbia preso l'immagine questa bottiglia in realtà l'avevo fatta in un modo leggermente diverso da questa e a questo punto devo dedurre che sia il modo migliore e cioè ho messo in realtà un'immagine anche al secondo materiale ricordate che prima vi ho detto mettiamo il nostro questa è la bottiglia siamo andati a vedere come era fatto qui abbiamo visto che c'era il materiale diffuso e poi qui non c'è una texture vede che è vuota quindi il consiglio che a questo punto vi do è di mettere una texture anche lì anche vuota secondo me dovrebbe funzionare perché vuota poi su OpenSIM la potete riempire quindi questa c'è la texture che è stata assegnata gli mettete anche qui coordinate UV mappa UV quindi rifatti di nuovo questo mestiere poi proviamo a fare un secondo export vedere se viene più più interessantemente quindi facciamo export con l'ADA andiamo impostazione operatore simstatic mettiamo materiali mi sembra che se siete nella stessa sessione ve la salva quindi adesso me lo sono rimpostato perché ho ricliccato qua però dovrebbe conservare il salvataggio appena fatto e poi qua andiamo in bottiglia 27 settembre chiamiamo bottiglia 27 settembre 2 facciamo il export con l'ADA e poi facciamo una piccola prova per vedere questo nuovo export quindi upload mesh model bottiglia ecco qui non si capisce che sono diverse comunque proviamo a fare l'import ok facciamo use load above vediamo le texture poi andiamo qua facciamo ecco qui in realtà bastava mettergli il nome in blender 27 settembre 2 upload ricordiamoci include texture qui mi sembra che l'abbiamo fatto facciamo calculate weight and fee upload vediamo se questa si comporta meglio della prima quindi l'abbiamo messa anche qui bisogna avere pazienza infinita mi sembrava che non si prese l'etichetta invece vedete che arriva andiamo a selezionare questa faccia qua voglio solo vedere se la metto bianca ancora un piccolo difetto di textualizzazione lo ripeto magari come l'altra volta offline così vi spiego bene come qual è il pezzettino che eventualmente da fare per avere la textualizzazione migliore forse c'era proprio la texture sopra comunque la tecnica a parte queste cose da rifinire sostanzialmente è riassumibile in questo genere di passi come vi sembra come textualizzazione di una bottiglia molto semplice cioè niente di sofisticato allora a parte quel difetto che ho visto adesso però se lo volete farlo di maniera così insomma va bene invece vabbè sono 53 ecco la personalizzazione della textuale ve la raccomando per un motivo dal punto di vista educational nel senso che se fate voi o fate fare ai vostri allievi delle cose fatte in questo modo siete sicuri di non infrangere nessun copyright e quindi di non fare pubblicità occulta ad altre cose e soprattutto è molto più personale è molto quindi credo che una bottiglia fatta così può essere considerabile molto insomma uno si affeziona a un'etichetta che si fa in questo modo non so quanti di voi hanno fatto il corso base con non giliola e gli altri in quel corso base ad esempio si insegnano mi sembra che si insegni in qualche in qualche lezione a fare la maglietta personalizzata e anche lì sostanzialmente si seguono delle tecniche simili a quelle che stiamo vedendo qua forse un filo più semplice ok allora a parte credo che molti di voi abbiano anche chiesto come riuscire a fare la la textualizzazione con l'etichetta dietro non rovesciata mi sembra che però alcuni di voi l'abbiano riuscita a farla mi sembra che anni e altri l'abbiano fatta senza propri problemi quindi se qualcuno poi vuole creare un tutorial per farla in quel modo ovviamente lo si può fare il vetro trasparente bianco si può fare possiamo farlo in questa qua vecchia che era venuta meglio nel senso che se io vado qua faccio seleziono la faccia lì e poi gli metto trasparenza un po' di più tipo 40 e tecnici è trasparente troppo trasparente forse facciamo 20 e poi però i materiali texture vedete che qui c'era una texture rossiccia qui ho fatto un'immagine di un pixel però se io la faccio questo default blank ok ecco così dicevi mi piace così questa come vedete è anche abbastanza accettabile ah per farla piena una cosa del genere secondo me basterebbe in blender fare un cilindro di rosso o bianco insomma in modo tale da metterglielo dentro e però comunque l'effetto vetro non è malavaggio forse più che bianca bianca per averla meglio si potrebbe farla di un colore un po' più azzurrino cosa del genere ricorda di più il vetro ecco così forse più realistica perché le bottiglie bianche bianche non ci sono e vedete questo era il discorso che dicevo prima che avendo due materiali io sono riuscito a rendere trasparente il vetro ma non l'etichetta direi che se è il gruppo dovresti poter rezzare la bottiglia qua poi comunque come avete visto ho avuto un piccolo problema quindi se qualcuno di voi vuole provare a fare questa tecnica e riuscire a farla riuscire a trovare il piccolo errore che a questo punto forse il problema era di fare di mettere uno texture anziché il colore infatti nella mia avevo messo una texture che ho preso da un sito che si chiamava uno per uno eccetera allora questa bottiglia qua come vi ho visto ci impiega un sacco di tempo ad arrivare anche tu hai fatto due materiali ok carina forse ti conviene o metterla più centrata o rimpicciolirla leggermente questa l'hai fatta stasera o l'avevi fatta qualche giorno fa cioè a parte ora ottimo sì forse la testualizzazione della parte scura c'è quel difetto che c'avevo anch'io adesso devo ritrovarmi un attimo le istruzioni giuste per darvi un prosieguo magari vedo dopo sul sul gruppo facebook sì sì comunque questo è un modo di mettere un'etichetta tutto tonno ok adesso saremo pieni di bottiglie e facciamo una cosa allora le mie bottiglie adesso le prendo così torniamo se volete rezzare anche voi c'è un po' più c'è un po' di spazio e poi poi le cancellerei ecco adesso a parte rifinire un attimo queste cose eventualmente per chi ha fatto gli scacchi o non li ha fatti insomma c'è ancora abbastanza tempo la bottiglia ve la suggerisco giusto per avere un attimo di dimestichezza con qualche esempio di texturizzazione ma tenete conto che come scritto come scritto la texturizzazione è un'attività abbastanza elevata in Blender quindi chi lo sa fare anche cose semplici è già bravo no? dalla settimana prossima io comincerei invece a entrare un pochino più nel merito di quello che è il corso di architettura quindi costruire un appartamentino ok? solo che volevo prima di passare agli appartamenti gli oggetti insomma leggermente più complicati che aveste un'infarinatura minima minima ma già come avete visto non banalissima di quello che si può fare con Blender quindi vi ricordo che il compito credo per la volta prossima sia sostanzialmente a parte gli scacchi la bottiglia qui non ci riuscisse a fare la bottiglia con uno dei metodi che sono stati proposti chieda pure sul gruppo insomma se qualcuno ha una mano credo che siamo tutti disponibili se abbiamo tempo ovviamente ci aiutiamo ma non è che sia obbligatorio insomma che uno sia tutto il tempo insomma se potendo avendo la possibilità uno si può collegare io ho fatto faccio spesso dei collegamenti con Zoom alcuni di voi che hanno dei problemi è chiaro che non posso stare ad esempio tre o quattro ore collegati con una persona quindi se ci riesco se riesco a organizzarmi qualche piccolo momento tipo 5-10 minuti cercando di sbloccarvi se avete proprio dei problemi particolari qui basta magari solo vedere cosa fate che errori fate ok allora io con questo direi che termino registrazione vediamo un po' se funziona chiudo il meeting e ci sentiamo per la prossima settimana grazie a tutti